benvenuti in questa guida top 7 materassi gonfiabili di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo bestway 6700 e 2n dimensioni 1,91 metri x 1,37 metri x 22 centimetri peso massimo consentito vediamo la nostra valutazione nella qualità generale diamo 4 stelle offerta imperdibile grazie allo sconto per le funzionalità raggiunge 4 stelle nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 74 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo active era inflazione veloce questo letto gonfiabile matrimoniale possiede una pompa elettrica integrata la quale riesce a gonfiale il letto alla sua ecco cosa pensiamo la qualità generale raggiunge 5 stelle nell'offerta assegniamo 5 stelle nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo ola raccaic materasso massima qualit nei materiali e nella lavorazione anche dopo i più severi controlli di qualit il nostro materasso gonfiabile qui in sizze vediamo la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale nell'offerta assegniamo 5 stelle una funzionalità straordinaria in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 81 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare active era il nostro materasso più avanzato progettato con una struttura di supporto interna che imita il design di un letto normale per fornire vediamo il nostro parere 4 stelle nella qualità generale proposto a super sconto per funzionalità diamo 5 stelle con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 84 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo active era inflazione veloce il materasso gonfiabile singolo con pompa elettrica integrata facile da usare si gonfia rapidamente fino a raggiungere la vediamo la nostra opinione un eccezionale qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato con ottime caratteristiche straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 88 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo intex 64755 dimensioni 1,83 metri x 2,03 metri x 25 centimetri struttura realizzata in fai ecco la nostra valutazione una qualità generale discreta ottimo momento per acquistare con ottime caratteristiche con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica best way pavillo dimensioni 1,91 metri x 1,37 metri x 22 centimetri per due adulti capacit di peso 300 kg pompa sidewinder con ecco il nostro parere un eccezionale qualità generale un'offerta conveniente con una funzionalità eccelsa con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il punteggio è di 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale